A conclusione della settimana di riflessione e studio sulla figura di Don Paolo Tonucci, missionario fidei donum, in occasione del ventennale della sua morte, sabato 11 ottobre al centro pastorale di Fano si è tenuto il convegno dal titolo Fare memoria per andare oltre la missione ieri e oggi, organizzato dall'associazione Apito. Relatori del convegno il teologo Don Carlo Molari, il missionario Don Mario Aldighieri e il professor Mauro Barsi, che hanno ripercorso con riflessioni e testimonianze il lavoro fatto da Don Paolo in Brasile. Don Molari nella sua relazione ha evidenziato la vicinanza dell'operato di Paolo a quanto espresso dalla teologia della liberazione e in particolare a quella corrente italo-argentina della teologia del popolo. I poveri e la loro religiosità, detto Don Molari, sono secondo la teologia popolare un riflesso della presenza di Dio nella sua chiesa, un magistero da ascoltare, capace di evangelizzare. Don Aldighieri ha invece ripercorso la storia dei fidei donum e in particolare il lavoro svolto in America Latina, che ha sempre puntato sulla creazione delle comunità di base, sulla lettura popolare della Bibbia e sull'appoggio delle iniziative sociali a sostegno degli ultimi, impegno questo che Don Paolo ha sempre promosso e appoggiato durante la sua missione. Infine il professor Mauro Barsi, presidente dell'associazione Agata Smeralda, ha ricordato come Don Paolo iniziò a collaborare con loro per avviare il progetto delle adduzioni a distanza in Brasile, a fianco del fiorentino Don Renzo Rossi. Don Paolo, ha concluso il professor Barsi, aveva una luce e una profondità interiore, un sorriso e uno sguardo che colpiva chiunque lo incontrava. Ecco la sua grandezza. Il convegno si è poi concluso con una carrellata di testimonianze di quanti hanno conosciuto e lavorato con Don Paolo Tonucci. Tutti concordi nel riconoscere come Paolo vive ancora oggi nel cuore di tanti qui in Brasile e per questo il suo lavoro non terminerà. Nel pomeriggio la carovana brasiliana si è poi spostata in Piazza Amiani per un momento di festa grazie alle testimonianze di Deglia Boninsegna, di Membo Cassano e la musica di Marco Poeta con la lettura degli scritti di Don Paolo a cura di Giulia Poeta.